Musica Buonasera, buonasera a tutti voi, bentrovati nella nostra redazione, interrogatorio di garanzia questa mattina per le quattro persone arrestate lo scorso 29 aprile nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità catanese. I quattro indagati, tre medici e un amministrativo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sentiamo. Sono stati interrogati questa mattina all'interno del Palazzo di Giustizia di Catania davanti a GIP, Simona Ragazzi, i quattro uomini arrestati, tre medici e un amministrativo, tutti ai domiciliari, coinvolti nell'inchiesta giudiziaria sulla sanità catanese. I quattro indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Al centro delle indagini, incarichi nell'ambito di progetti finanziati e approvati dall'assessorato alla salute della regione siciliana, attribuita a predestinate o a congiunti attraverso bandi predisposte ad hoc ed esami pilotati nel concorso per la nomina a direttore amministrativo dell'Ordine dei Medici di Catania. La linea dei difensori, gli avvocati Giampiero Torrisi, Salvatore Di Dio, Pier Giuseppe De Luca, Pietro Ivan Maravigna e del professore Giovanni Grasso, è di valutare attentamente il grande volume di documenti che fanno parte del fascicolo. Gli indagati, ricordiamo, sono Giuseppe Arcidiacono, 65 anni, dirigente medico dell'Arnes Garibaldi di Catania, esponente di Fratelli d'Italia, che si era candidato a sindaco, poi ritiratosi per appoggiare Enzo Trantino, sostenuto da tutto il centro-destra. Nunzio Ezio Campagna, 61 anni, Sebastiano Felice Agatino Ferlito, 69, e un ex funzionario amministrativo dell'Università di Catania, Gesualdo Antonino Missale, di 52 anni. I quattro sono accusati di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente e corruzione per atti contrari a proprio dovere. Nell'inchiesta sono indagate altre 13 persone per 8 delle quali la Procura ha chiesto l'emissione di una misura interdittiva che sarà decisa dal GIP dopo il loro interrogatorio fissato proprio per il 5 maggio. Tra loro anche due ex assessori regionali, Ruggero Razza e Antonio Scavone, indagati per turbata libertà di scelta del contraente per la nomina di due professionisti per attrattanti progetti e il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Ignazio Lamantia, che ha accusato di turbata libertà degli incanti per aver favorito un candidato a un congosto a dirigente all'Ordine Etneo. L'ex sindaco di Catania, Salvo Pogliese, è stato condannato in appello nell'ambito delle cosiddette spese pazze all'Assemblea regionale siciliana. Pogliese, attuale senatore di Fratelli d'Italia, è stato condannato a due anni e tre mesi e una riduzione di pena rispetto al primo grado. La riduzione è stata dovuta ad accuse ormai prescritte o a fatti non commessi. Pogliese è stato difeso dagli avvocati Franco Coppi, Francesco Bertorotta e Giambiero Torrisi. La legge Severino prevede casi di incandidabilità qualora le pene superassero i due anni, ma è pressoché scontato, come nel caso dell'ex sindaco di Catania, il ricorso in Cassazione da parte dello stesso Pogliese. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Paternò per un'auto andata improvvisamente in fiamme. Il fatto è accaduto in via Emanuele e Bellia, angolo via Martiri della Libertà. I due occupanti dell'auto, a cortisi del fumo fuori uscire dal vano motore, hanno arrestato il mezzo mettendosi così in salvo. Poi l'arrivo dei vigili del fuoco del locale di staccamento ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere fine al rogo. E fiamme all'interno di una copertura adiacente ad un capannone questa mattina in via Giuseppe Mezza a Belpasso. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Le fiamme hanno interessato materiale presente. I pompieri giunti sul posto hanno addomato del tutto le fiamme che erano già in stato in parte arginate da alcuni operai. Politica in primo piano adesso depositate oggi candidature a sindaco e liste dei candidati al Consiglio Comunale nei comuni chiamati al voto il 28 e 29 maggio. Come si ricorderà nell'Interland c'è Maletto, Biancavilla, Belpasso. A Maletto tre le liste per tre candidati alla carica di sindaco. A Biancavilla nove liste in totale al sostegno dei due candidati a sindaco. Ma allora vediamo di chi si tratta in questo servizio. Giochi fatti per le elezioni delle prossime settimane. Alle 12 sono scaduti termini per la presentazione delle candidature a sindaco e per il deposito delle liste collegate. per le elezioni del 28 e 29 maggio. Alla fine tutto come previsto nei comuni alle falde dell'Etna. A Maletto le liste saranno complessivamente tre. A Biancavilla nove, così come anticipato da Videostar nelle scorse settimane. A Maletto a contendersi la carica di primo cittadino saranno in ordine alfabetico Giuseppe Capizzi, sostenuto dalla civica Nuova Era, Giuseppe De Luca con la civica Siamo Maletto e Antonio Mazzeo con la lista Risorgi Maletto. 12 seggi da assegnare in consiglio comunale. A Maletto, in virtù della popolazione inferiore a 15.000 abitanti, si voterà con il sistema maggioritario. Vince, cioè, chi prende anche un solo voto in più, senza ricorrere al turno di ballottaggio. Giuseppe Capizzi, giunto secondo alle amministrative 2018, ha indicato come assessori Luigi Parinello, Laura Alonzo, Vincenzo Russo, Carmelo Melardi. Giuseppe De Luca, sindaco uscente, ha designato come assessori in Maria Foti, Ausilia Parinello. Antonio Mazzeo, candidato alle elezioni di cinque anni fa, ha indicato come assessori Luigi Sanfilippo, Cristiana Schilirò e Salvatore Portale. Ha completato pure a Biancavilla il puzzle delle liste. Come ampiamente previsto, i candidati a sindaco saranno due. Antonio Bonanno, sostenuto da otto liste espressione del centro-destra, e Andrea Ingiulla, sostenuto da una lista di centro-sinistra. A Biancavilla, 16 seggi da assegnare per la formazione del nuovo consiglio comunale. Tra questi c'è pure il seggio che spetterà al candidato sindaco giunto secondo, con almeno il 20% dei voti. Antonio Bonanno, sindaco uscente, ha dalla sua Fratelli d'Italia, prima l'Italia, Biancavilla in azione, Movimento per l'autonomia, Biancavilla mi piace, Energie per Biancavilla, noi per Biancavilla, Biancavilla che lavora. Andrea Ingiulla, già assessore comunale in passato, ha messo insieme in un'unica lista il Partito Democratico, e il Movimento Biancavilla che vogliamo, di cui è fondatore. Rispetto a cinque anni fa, non ci sarà il Movimento 5 Stelle. Bonanno ha indicato come assessori Vincenzo Randazzo, Martina Salvae e Vincenzo Giardina, riservandosi di nominare gli altri due assessori in seconda battuta. Ingiulla ha designato invece Fina Greco, Salvo Spadaro, Margherita Messina, Grazia Ventura e Pietro Benina, completando così la squadra già in questa fase. Se nessuno dei due candidati raggiungerà il 40% dei voti, i biancavillesi saranno chiamati a rivotare l'11 e il 12 giugno per il turno di ballottaggio. E allora, un grande plotone di 144 candidati aspiranti, consiglieri comunali, come vediamo in queste liste. Partiamo dalle liste associate al candidato in ordine alfabetico Antonio Bonanno. Come vedete, Biancavilla mi piace una delle liste. Prima l'Italia, è una chiaramente carellata di nomi che stiamo vedendo qui. Poi ancora la lista di fratelli d'Italia, Antonio Bonanno sindaco. Poi ancora, vedremo adesso, energie per Biancavilla, con tutti i candidati di questa lista. Ancora Biancavilla in azione. E poi, sempre a sostegno del candidato sindaco Bonanno, ancora la lista civica, Biancavilla che lavora. E ancora, adesso, la lista del Movimento per l'autonomia, l'MPA. E poi ancora, sembra a sostegno del candidato Bonanno, noi per Biancavilla, lista civica. Leggiamo proprio quello che è riportato all'interno del simbolo. E qui, invece, per quel che riguarda la lista a sostegno del candidato sindaco Andrea Ingiulla, Partito Democratico e il Movimento Biancavilla, che vogliamo quest'unica, diciamo così, assembramento di due realtà in un'unica lista. E allora, queste schermate che vi abbiamo mostrato, chiaramente, velocemente, perché il numero dei candidati è particolarmente elevato, le troverete pubblicate interamente sui canali social di Videostar, subito dopo, il nostro Tg. Ci spostiamo, invece, nell'altra città, chiamata al voto il 28 e 29 maggio. Belpasso, sono quattro i candidati alla carica di sindaco. Appunto, vediamo di chi si tratta. A Belpasso saranno quattro i candidati sindaci che si contenderanno la potrona di primo cittadino in vista delle prossime amministrative in programma il 28 e 29 maggio. Scadeva oggi, infatti, alle 12 il termine ultimo per la presentazione delle liste a sostegno dei quattro aspiranti sindaci, anche se i referenti dei quattro candidati avevano depositato il tutto nelle scorse ore, non aspettando quindi delle 12 di oggi, a dimostrazione di come in queste settimane tutti i partecipanti alla competizione elettorale hanno lavorato a 360 gradi per non farsi trovare impreparati nei momenti in cui sarebbero state depositate le liste presso la segreteria del comune di Belpasso. Competizione, quella del 2023, a Belpasso che vede sia il centrodestra che il centrosinistra, divisi dando vita ad una serie di cocktail di liste civiche, partiti politici e movimenti impensabili all'inizio della campagna elettorale. Il centrodestra è diviso quindi da una parte Callo Caputo e Savo Licandri Caputo riprova a riconquistare la potrona di primo cittadino essendo stato sindaco dal 2013 al 2018. Dalla sua parte, sette liste, ossia due partiti politici, Fratelli d'Italia e Democrazia Cristiana e cinque civiche, insieme per Belpasso, Fenice, scelgo Belpasso, andiamo avanti, Belpasso più. Callo Caputo ha designato come assessore il deputato regionale Giuseppe Zitelli, Anna Spambinato e Giovanni Bandiera Monte. A sostenere Caputo anche il sindaco uscente Daniele Motta che per motivi strettamente personali ha preferito non ricandidarsi. L'altro candidato che arriva alla centrodestra è Savo Licandri, ex presidente del Consiglio Comunale. Licandri ha a suo interno un esponente della Lega, forzisti del Partito Democratico, ma anche elementi che fanno riferimento a Cateno De Luca. L'ex presidente del Consiglio ha il sostegno di otto liste, si tratta di Prima l'Italia, Forza Italia, Salvo Licandri sindaco, Il Quadrifoglio, Democratici, Belpasso, Attiviamo a Belpasso, Sud, Chiama Nord, Forza Belpasso. Gli assessori designati da Licandri sono il consigliere comunale uscente Santi Borzi, Paolo Orlando e Giovanna Ragusa. Gli altri due candidati sindaci arrivano dal centro-sinistra, si tratta di Giuseppe Lucio Piana e Danilo Rossetti. Piana è sostenuto da una sola lista, prospettiva comune. Gli assessori designati sono Giovanni Chiseri, Noemi Manno e Massimo Vallone. L'altro candidato dell'area di centro-sinistra è Danilo Rossetti, sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle. Rossetti ha designato come assessori Concetta Pulizi, Alessandro Platania e Domenica San Filippo. Da premettere che inizialmente il Movimento 5 Stelle appoggiava Piana, ma nelle ultime settimane si è registrata una frattura piana, voleva far conveggere in un'unica lista 5 Stelle e prospettiva comune. Una decisione non condivisa dai pentastellati. Da qui la decisione di proseguire separatamente. E' stata riparata dal comune la perdita di acqua in via Eritrea che stava causando un cedimento stradale. A segnalare il disagio a Videostar ieri sono stati i residenti della zona. Ci troviamo chiaramente a Paternò. Tempestivo l'intervento dell'assessore alle manutenzioni, Salvatore Comis. Vediamo. Di ieri la segnalazione di alcuni residenti di via Eritrea a Paternò in merito al cedimento del manto stradale all'altezza di un'abitazione, residenti che avevano raccontato a Videostar di aver chiesto più volte l'intervento dell'amministrazione comunale o dell'AMA sin dal mese di gennaio. Siamo certi che la buca sia stata causata dal passaggio dei mezzi pesanti dovuti ai lavori stradali, avevano aggiunto. L'assessore alla manutenzione, Salvatore Comis, dopo il post pubblicato sulla pagina di Videostar aveva ieri stesso contattato la nostra redazione, affermando che l'amministrazione comunale aveva già in programma l'intervento per individuare la causa e ripristinare il manto stradale. È stato accertato che si tratta di un cedimento del terreno e non di una semplice buca, pertanto l'intervento deve essere più incisivo, aveva dichiarato ieri stesso l'assessore Comis, annunciando inoltre l'imminente avvio dei lavori. E così è stato. Questa mattina, tempestivamente, gli operai si sono presentati in via Eritrea. Dopo aver scavato ed individuato la causa del cedimento, ovvero la perdita d'acqua da un tubo, tutto è stato ripristinato. Grazie al vostro servizio finalmente il problema è stato risolto. Ci scrivono i residenti. La biancavillese Martina Salva, consigliere comunale ed ex presidente della Sisecivica, è stata nominata collaboratrice dell'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana per quanto riguarda le attività che si svolgeranno nella sede catanese dell'assessorato. Sentiamo. L'ex presidente del consiglio comunale di Biancavilla Martina Salva è stata nominata funzionario direttivo presso l'ufficio di diretta collaborazione dell'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana. Salva, 25 anni, laureata in chimica industriale specializzata in chimica dei materiali e delle nanotecnologie, è chiamata a coadiuvare il capo di gabinetto dell'assessorato per ciò che riguarda gli incontri e gli interventi dell'assessore sulla sede di Catania. Si occuperà inoltre di curare i rapporti tra gli uffici di Via Lamalfa a Palermo e la sede degli uffici di rappresentanza della presidenza della regione a Catania. Ringrazio l'assessore Elena Pagana per l'importante incarico che ha deciso di assegnarmi. Lavorare al suo fianco è per me motivo di orgoglio, commenta così Martina Salva. All'assessore dimostrerò ogni giorno di essere all'altezza dell'incarico affidatomi tutto il mio impegno per il bene della nostra amata Sicilia. Il nome di Martina Salva inoltre, come detto più volte, risulta nell'elenco dei primi tre assessori indicati dal candidato sindaco del centrodestra di Biancavilla Antonio Bonanno. E questa era la nostra ultima notizia, il nostro ultimo servizio. Ci fermiamo qui almeno per il momento. Grazie come sempre per la vostra attenzione e a voi tutti l'auguro di una buona serata. Grazie a tutti.